Oh, immagino che si siano dimenticate tutte di me! Nessuno mi scrive o chiama! Neanche un messaggio! Lo so! Quando eravamo bambine ci riunivamo per giocare a Monster High! È incredibile! Ciao! Facciamo una festa in stile Monster High come ai vecchi tempi! Sono qui! Ciao! Che la festa di Halloween abbia inizio! Un drink speciale! Solo per la nostra festa! Una zucca fresca! Deliziosa! Sentite questa musica? Vediamo da dove arriva! Ho paura! È spaventoso! Penso che venga da laggiù! È solo Sharon! Perché eravamo così spaventate! Ciao ragazze! Smettila Sharon! Andiamo! Arrivo! Di nuovo quella musica! Ma siamo tutte qui! Ragno! Verme! lecca 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 e spazzatura da sotto il divano! La nostra pozione è pronta! Spirito, ti evochiamo! Spirito, parla con noi! No! Non funzionerà! Perché sprecare un insetto gommoso? La mia pancia prontola! Sono un cane? Un pipistrello? Sono di nuovo umana! Mi fa male lo stomaco! Dolce cucciolina! Lascia che ti accarezzi! Brava cucciola! Voglio dire... Adele! Te lo spiego dopo! Ordiniamo la pizza! Pizzeria? Vorremmo la pizza più grande! Oh... Qualcuno ai contanti? Non ho nemmeno le tasche! Chi ha ordinato una pizza? Un fantasma! Ha funzionato! Mangiamo! Cambiamoci! Sì! Esaminiamo l'armadio! Com'è questa giacca? È fantastica! Non è ancora finita! Buh! Buh! Bel lavoro, ragazze! Avevi promesso di pagarci! Ve li siete guadagnati! Grazie! Adele, svegliati! Era solo uno scherzo! Preparatevi! Evochiamo uno spirito! Spirito, sei qui? Si è spostato! Sei stata tu? No? Non sono stata nemmeno io! Si sta muovendo! Abbiamo evocato uno spirito! Non volevamo farti arrabbiare! Il tavolo si sta muovendo! Ci siete cascate! Era uno scherzo! Davvero? Perché la luce lampeggiava? Era Sharon! Ciao! Ciao! Allora avete parlato con gli spiriti! I vostri scherzi fanno schifo! Non arrabbiatevi! La ricchezza sta arrivando! Ragazza, è finita! Mi ha scaricata! Ma io lo amo ancora! Rilassati! Gli faremo un incantesimo d'amore! Butta qui dentro tutta la roba che ha lasciato! Un calzino, i primi fiori... Anche l'orologio! E la foto! Magia! Forza! Amore! Torna! È lui! Ha funzionato! Ciao! Sei tornato! Ho dovuto! Che fortuna! Sono qui per prendere le mie cose! Hai già raccolto tutto? Molte grazie! Oh no! Perché? Non preoccuparti! Lascia che ti legga il futuro! Una mano? Oh, che paura! Non puoi nemmeno spaventare un bambino con quella! Lo scherzo ha funzionato! Tupida mano! E ora i selfie! Un serpente! Lotta di cuscini! Cosa c'è di così divertente? Lo so! Ho bisogno di molti vermi gommosi! Ecco! Che schifo! Che film spaventoso! Che film spaventoso! I popcorn sono un must! Una mano! Vuoi pop corn? Qui! Io non li condivido! È solo una mano finta! Perché ti sei spaventata così tanto? Continuiamo a guardare! Il tè è pronto! Sì! È la mia ricetta speciale! E ora lo verso a tutte! Amo il tè! Anche a me! Un occhio in una tazza! Non lo bevo! Un occhio! Delizioso! Cosa? Perché lo fai? Non preoccuparti! Sono caramelle gommose! Ho cambiato idea! La signorina serpente adora le caramelle! Vi svelo un segreto! La mia cotta! È così verde! Mi fa impazzire! E questa è la mia costa! Lo amo tanto da farmi paura! Cosa ne pensate di questo sorriso? Affascinante! Il mio è davvero bello! Ora non riuscirò a dormire! Oh! Mi sono confusa! Immagine sbagliata! Ecco! Molto meglio! Scusa, tesoro! Non capiscono niente dell'amore! Ti ricordi che quando eravamo bambine ci facevamo le unghie? Ma ora abbiamo una lampada UV! Mi addormento sempre quando mi faccio le unghie! Sta dormendo! Ragazze, venite qui! Ecco Wurzel e ketchup! Mettiamoci al lavoro! È un dito? Le mie dita! Sono qui! Questi sono solo Wurzel! Che super scherzo! Le amiche hanno passato una serata divertente! È ora di andare a letto! Sogni d'oro a tutte! Ma Stasi ha in mente qualcos'altro! Stasi? Ragazze! Stasi se n'è andata! È vero! Cosa facciamo? Dov'è andata Stasi secondo te? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare click sulla campanella per non perderti nessun nuovo esilarante video di Troom Troom! Assolutamente la domenica! Sogni d'oro! Ciao!